Ciao a tutti amici di YouTube, io sono Travater91 e in questo video, come leggete dal titolo, parliamo di Hunger Games, la ballata dell'usignore del serpente. Film appena rilasciato nelle nostre sale, è uscito il 15 novembre 2023, film diretto da Francis Lawrence, e su lui ci torniamo tra un attimo, prequel della saga di Hunger Games, saga che effettivamente sul canale non ho mai trattato, mi sarebbe piaciuto fare il solito rewatch per parlare degli altri film, ma non ce l'ho fatta perché poi in mezzo c'è stata Lucca e varie altre cose. Quindi, prima di passare appunto alla ballata dell'usignore del serpente, parliamo brevemente di quello che è il mio rapporto con Hunger Games. Io ho conosciuto la saga quando era uscito il primo film, che come vedete qui ho in DVD insieme agli altri, insieme al secondo capitolo, e alle due parti del terzo, in realtà questi ce li ha mia madre che è più fan di me, lei già conosceva il libro, mi pare che l'avesse anche letto. Siamo andati a vedere il film, siccome il film mi era piaciuto, poi mi sono recuperato i libri, infatti qui abbiamo la trilogia di romanzi scritti da Susan Collins, appunto Hunger Games, La ragazza di fuoco e Il canto della rivolta. I libri non mi dispiacciono, non sono capolavori, ma sono letture molto scorrevoli, io me li sono letti in estate mentre ero al mare, sono volati via in pochi giorni, sono anni e anni che non li rileggo, però ricordo di essere uno dei pochi che adora il tanto bistrattato terzo libro, perché al netto di vari difetti, soprattutto certe cose che vuole dire, in particolare nel finale, mi sono piaciute tantissimo, e quindi, e poi appunto era un po' una ventata d'aria fresca rispetto al secondo, che per quanto bello era alla fin fine una ripetizione del, pur con delle variabili, varianti anche interessanti, una ripetizione del primo. E quindi, i libri mi erano piaciuti, parlando dei film, appunto il primo non mi dispiace, rispetto a molti altri che sembrano non apprezzarlo, lo so anche se avete guardato la retrospettiva che è stata fatta sul canale di Matioski, mi piace il secondo, e le due parti del terzo, insomma, si vede che sono due film allungati per essere in due parti, seguendo la moda lanciata da Harry Potter e proseguita dal Twilight, che purtroppo è una moda che non è che abbia mai portato a grandi risultati, perché quando si divide un film in due parti, appunto, si sente tanto che soprattutto la prima parte è stirata per poter, appunto, giustificare questa divisione. Inoltre, più in generale, per quanto non c'è il senso, questa tetralogia per me non comprenda film brutti, c'è il problema che sono film troppo aderenti al materiale originario, cioè sono un compitino con alcune differenze, e il problema è che queste differenze non danno una personalità propria ai film, sono appunto un compitino che può essere svolto più o meno bene a seconda del film, però appunto è una saga che infatti è stata fatta e poi ci sia abbastanza uscita dalla memoria, soprattutto i film, magari i libri ancora un po' di più, ma appunto la controparte cinematografica, sì, ce la ricordiamo perché ha lanciato Jennifer Lawrence come attrice, ma a parte questo non ha secondo me lasciato molte impronte, nonostante alcune cose interessanti come soprattutto un'amarezza e una cattiveria non comune a molti blockbuster, però anche lì i libri sono molto più truculenti, siccome comunque devi fare e devi avere come rating il PG, molte cose dei libri vengono appunto molto ammorbidite nei film, basti pensare che due dei personaggi principali alla fine vengono coinvolti in un'esplosione, se leggete il libro viene detto che questi personaggi sono mezzi ustionati come se fossero degli ibridi di fuoco, viene proprio usato questo termine nel libro, lo vedi, li vedi nel film e guarda un po' l'esplosione, gli ha convenientemente mancato la faccia, ha colpito solo i punti in cui ci avevano tipo la tuta ignifuga eccetera eccetera, e dici vabbè ditelo che l'ho fatta apposta, che è ovvio che lo faccio apposta, però insomma era un po' ridicola sta cosa, quindi saga carina, ma nulla più appunto, qui ci sono i dvd alla fine li ho lasciati a mia madre insieme ai libri perché lei è più fan, poi cosa succede due o tre anni fa, adesso non mi ricordo, viene annunciato un libro prequel di Hunger Games, che è questo qui, appunto la ballata dello signore del serpente, e questo per quel che mi riguarda è una delle, proprio io non l'ho letto il libro, ma proprio su carta il concetto che ha portato alla realizzazione di questo libro, ve lo dico già, per me è una delle cose più patetiche che esistano, non è l'unico ad averlo fatto, ma è proprio un'operazione che io trovo appunto patetica, scrivere un libro al solo scopo di trarci un film. Per me è idiota, vuoi continuare una saga, ma continuala senza bisogno del libro, questa è la stessa cagata che fu fatta ai tempi dell'uscita di Jurassic Park, e siccome Jurassic Park il film aveva avuto un successo della Madonna, volevano andare avanti, allora dissero a Michael Critton, senti scrivi un seguito del libro di Jurassic Park e così ci traiamo un film, quella per me paradossalmente era ancora più imbecille, perché se poi io non ho letto il libro del Mondo Perduto, ho letto il libro di Jurassic Park, però comunque mi sono spoilerato la trama del libro del Mondo Perduto, e non c'entra un cazzo con il film che poi ne ha tratto Spielberg, quindi semplicemente Critton poteva dare un canovaccio a Spielberg e dire ma c'è un'altra isola con dei dinosauri e vogliono portarli via, facci quello che vuoi, e non sarebbe cambiato assolutamente nulla. E insomma c'è quella cosa lì, era stupida, e anche qui la trovo idiota. Comunque sto volando questo appunto, annunciano il libro, appunto mia madre l'ha preso e se l'ha letto io non sentivo particolare interesse, poi appunto sono usciti i trailer del film, che erano trailer molto interessanti, mi piacevano molto, e qui c'è il fatto che il regista, come dicevo prima, era Francis Lawrence, ovvero il regista di quasi tutta la saga, perché questo primo capitolo è stato diretto da Gary Ross, mentre invece tutti i successivi li aveva diretti appunto Francis Lawrence, regista che al di fuori di Hunger Games è relativamente conosciuto, però proprio da una bolla registrata di appassionati, per Constantine, e io sono leggenda, però insomma non è mai stato un regista che abbia fatto il botto proprio al di fuori di Hunger Games, che sono i film per lui più redditizi, e si sente molto che è tornato alla regia per dire, va così mi ripiglio qualche soldino che con gli altri lavori che ho fatto non ci sto riuscendo granché. E quindi appunto vediamo questo prequel che si ambienta durante la decima edizione degli Hunger Games, ricordiamo che la saga si svolge in questo, negli Stati Uniti del futuro, un futuro imprecisato nel tempo, ora gli Stati Uniti si chiamano Panem e sono suddivisi in Capital City che è al centro e dalla zona governativa, e poi ci sono 12 distretti, più un tredicesimo che però è stato distrutto durante una guerra, guerra in cui appunto i distretti si sono ribellati, sono stati sconfitti da Capital City, e per punizione ogni anno vengono istituiti gli Hunger Games in cui ogni distretto manda un ragazzo e una ragazza di età compresa tra i 12 anni, non mi ricordo, insomma 12 e 18 anni, e appunto devono fare questi Hunger Games in cui si devono ammazzare la vicenda affinché non ne rimane solo uno in piedi. Appunto questa è la decima edizione e noi seguiamo i Mentori, cioè coloro che dovranno istruire i tributi, come vengono chiamati i ragazzi appunto ma andati a morire, ognuno, cioè ci sono 24 Mentori per 24 tributi. Il principale che noi seguiamo ovviamente è un giovane Coriolanus Snow che abbiamo visto nella saga degli Hunger Games come il presidente Snow, capo di Panem e quindi cattivo principale della saga, qui lo vediamo appunto da giovane e vediamo un po' la strada che lo porterà a diventare appunto il cattivo che conosciamo. Lui fa da Mentore a Lucy Gray, ovvero la ragazza tributo del distretto 12, qui chiaro parallelismo con Katniss Everdeen della saga principale, e anche lei tributo femminile del distretto 12, quindi c'è un po' questa idea di la carriera di Snow è stata sia iniziata sia stroncata da un tributo del distretto 12, questa idea in sé era carina e appunto tramite questi Hunger Games e le loro conseguenze vedremo appunto cosa ha portato Snow a diventare il figlio di puttana che conosciamo. Onestamente questa idea sulla carta non è che mi facesse comunque impazzire come soggetto che è anche uno dei motivi per cui non mi ero approcciato al libro pur avendolo in casa, perché Snow non è un cattivo che ha bisogno di un background, magari anche di un background in cui vedi che era buono e poi si è incattivito col tempo. Non è Darth Vader in cui già nella trilogia originale di Guerra Stellare ti dicono lui un tempo era buono poi si è instronzito e allora gli dici potrebbe essere interessante vedere come è successo. Qui è più un Palpatine, cioè io non ho bisogno di sapere che Palpatine era buono da giovane, cioè io Palpatine, l'ho sempre detto, me lo immagino come uno che nel momento esatto in cui è nato ha tipo ruttato o sputato in faccia la nutrice che l'ho aiutato a nascere perché era già stronzo così tipo Bart, gemello, Bart malvagio nei Simpson, no? Però tanto in stasettimana questa era l'uscita più succosa, andiamola a vedere, poi sapevo che Matioschi e sorella andavano a vederlo all'Arcadia di Melzo, quindi va, uniamoci a loro, è venuto anche il buon Paolo Innocenti, trovate in descrizione il link al suo video, recensione, ed è venuto anche con noi il mio amico Luca, quindi tutti e cinque a vedersi Hunger Games e allora, è un film che sta dividendo abbastanza anche a livello di critica perché c'è chi lo sta apprezzando e chi no, su un attento momento sa il 60% di recensioni positive, quindi insomma promosso non da una maggioranza netta di critici, a molti non è piaciuto, ad altri sì. E anche a livello di pubblico sto sentendo chi ha detto brutto chi invece l'ho apprezzato e credo che il punto sia che è un film che a livello di intenzioni, propositi, è effettivamente interessante, al di là appunto della cosa non necessaria di rendere Snow buono, molte cose che stanno alla base del film in realtà appunto sono interessanti, come dicevo. Innanzitutto, il tipo di blockbuster che questo film vuole essere. Normalmente quando noi pensiamo al blockbuster pensiamo ad un prodotto che magari può avere sì parti drammatiche, ma che per la maggior parte mira comunque a intrattenere, a divertire lo spettatore. Spesso e volentieri si dice alla Marvel alla Marvel ha sdoganato l'umorismo nei blockbuster. No, l'umorismo c'è sempre stato, diciamo che la Marvel lo ha molto pompato, questo è vero, ma è un fenomeno che c'è sempre stato, cioè se considerate che i blockbuster sono nati con lo squalo e Star Wars, anche nello squalo che è un film mediamente molto più serio anche di uno Star Wars, ci sono comunque delle battute ogni tanto, quindi non è tanto, cioè comunque nel blockbuster c'è sempre stato l'umorismo, sono rari i blockbuster in cui non c'è e questo è uno di quelli, le battute sono, se non zero, sono veramente pochissime e ridotte all'osso, per il resto è un film appunto molto molto serio, molto più della maggior parte di blockbuster, anche amatissimi, e inoltre anche la struttura non è quella tipica di un blockbuster, perché quello che dovrebbe fare un film di questo tipo è montarti a poco a poco la narrazione per poi arrivare alla fine o tramite battaglie sempre più in crescendo magari solo ad un'unica battaglia finale comunque ad un climax finale di pure mazzate battaglie eccetera, si pensi a Endgame in prima parte un po' drammatica, poi c'è la parte più broad movie slash comedy con tutto il viaggio nel tempo e poi mega battaglione finale dove lì appunto le botte, le esplosioni, gli effetti visivi esondano enormemente. Questo film invece sceglie una struttura diversa, senza entrare troppo nel dettaglio abbiamo un primo atto che è il pre Hunger Games gli Hunger Games sono nel secondo atto e poi il terzo vengono appunto ti fanno vedere le conseguenze di questa edizione e non è una cosa scontata negli Hunger Games precedenti questa cosa non succedeva il primo film il primo e il secondo film si chiudevano cioè gli Hunger Games finivano e c'era qualche minuto per assestare quello che era successo e poi si chiudeva lì nel terzo bei Hunger Games non ci sono ma quello è un discorso a parte e il fatto che appunto qui succeda questa cosa è appunto interessante anche perché questo potrebbe essere eventualmente cioè un riavvio di saga è un eventuale nuovo inizio ora il film sta performando benissimo e probabilmente flopperà però per quanto lo posso già dire sia un film chiuso cioè che può finire così delle potenzialità per fare un secondo e terzo capitolo realizzare una vera e propria trilogia prequel termine che non so quanto convenga a essere associati visto appunto i precedenti però a parte questo appunto c'è qualche spiraio per andare avanti e appunto solitamente l'idea del magari il climax non è proprio la fine fine ma un po' prima poi c'è il riassestamento è più una cosa da capitolo finale cioè il ritorno del re c'hai quei 20 minuti per farti vedere un po' cosa è successo forse anche qualcosina di più lo stesso Hunger Games il canto da rivolta parte 2 c'è la battaglia e poi c'è del minutaggio per farti vedere anche in maniera un po' sbrigativa però comunque ti fa vedere che conseguenze ha portato qui il fatto che in un riavvio succeda questa cosa è effettivamente interessante e molto atipico inoltre si dice spesso ci si lamenta spesso di come quando il protagonista in un blockbuster è un cattivo si cerchi sempre di rabbonirlo un po' troppo ne è un esempio ormai famigerato lo Spunk con Venom e Morbius dove due personaggi che sono solitamente antagonisti anche molto sanguinari soprattutto Venom diventano dei simpatici di Gioni con la famosa sequenza trash di Venom in discoteca e Venom 2 che vorrebbe diventare rappresentante delle persone LGBTQ+, che spero non abbiano gradito perché non so quanto sia gradevole essere rappresentati da un deficiente del genere come il Venom interpretato da Tomardi purtroppo perché le potenzialità per fare qualcosa di figo c'erano ma vabbè insomma c'è un po' questo problema anche o comunque se il cattivo commette azioni cattive si viene spinti un po' a provare compassione per lui che è la famosa polemica che c'è intorno a Joker i detrattori dicono sì però sto Joker ok non è del tutto stronzo si è cercati un po' troppo di empatizzare con lui qui col fatto che Snow deve diventare cattivo questo pericolo non c'è cioè il concetto è arrivare alla fine dicendo mosto tizio alla fine devi renderti conto che è cattivo punto quindi proprio non c'è il diciamo il buonismo che c'è in molti blockbuster che è una cosa che a me il buonismo nei blockbuster non dà fastidio cioè proprio perché sono film di intrattenimento popolare che devono portare allegria tendenzialmente devono finire in maniera più positiva o propositiva possibile magari un po' amara ma non troppo negativa qui invece saremmo benissimo che sarebbe stato qualcosa che sarebbe finito negativamente anche perché questa era anche l'idea della trilogia prequel di Star Wars può anche finire in merda ma essendoci poi una trilogia successiva tu sai che le cose poi miglioreranno e qui è un po' lo stesso concetto e appunto il mettere il climax dello spettacolo nel secondo atto permette poi di creare un terzo atto molto più introspettivo tutto questo posso capire appunto perché poi anche gli Hunger Games col fatto che sicuramente hanno avuto un budget cioè proprio la rappresentazione degli Hunger Games non è enorme come quelle che abbiamo come i due Hunger Games che abbiamo visto nei capitoli della trilogia originale perché perché siamo nel passato quindi anche qui si evita restando in tema Star Wars il casino della trilogia prequel in cui vedi appunto nei prequel mega tecnologia avanzati abiti complessissimi eccetera poi arriva la trilogia originale che dovrebbe essere ambientata dopo ma essendo stata fatta prima è una roba veramente fatta con due soldi e dici mica tracollo brutto ha avuto la galassia e si ci sono state le spiegazioni forse anche in entrambi gli universi espansi adesso non sono esperto però c'è chi dice no perché per costruire le morti nere sia la prima sia quella di una nuova speranza che del ritorno dello Jedi l'impero ha sperperato le risorse della galassia e quindi ha ridotto tutti in povertà ok potevano farlo capire meglio nei film però vabbè insomma quel problema qui non c'è effettivamente vedi questi Hunger Games sono più poveri rispetto a quelli che vedi in futuro quindi ti eviti anche questa sorta di paradosso perfetto anche Capitol City appare meno meno enorme meno gigantesca meno sontuosa di quanto siamo stati abituati nei capitoli della tetralogia in questo caso più che trilogia cinematografica originale è ok quindi fin qui tutto bene il problema è che è un film che nella teoria nella pratica perché Hunger Games appunto questa decima edizione si svolge sostanzialmente in un'arena ristretta senza troppi fronzoli eccetera e ripeto ha senso nell'ottica della mitologia della saga ma se tu non hai la sontuosità appunto di effetti visivi di appunto di una qualche scenografia figa tipo l'orologio che era nella ragazza di fuoco o comunque appunto non ci sono che so tutti gli ibridi e le cose assurde che vedevamo nel appunto nei capitoli precedenti devi puntare tutto sulla messa in scena cioè devi fare in modo che quest'arena per quanto spoglia sembri comunque minacciosa e Francis Lawrence mi dispiace non è il regista adatto è un mestierante ma non è un ottimo mestierante è veramente un mestierantino così che fa il suo compitino e dice ok qui c'è questa scena devi dirigerla così e buon fine cioè ad un certo punto se senti dettaglio comunque negli younger games in questi younger games c'è sia un'arena sia dei tunnel tu pensi la parte dei tunnel sarà claustrofobica no anche la parte più con l'arena che puoi vedere meglio la battaglia non ci sono coreografie particolari cioè è veramente un film un po' spento a livello di messa in scena come purtroppo lo erano anche il canto della rivolta entrambe le sue parti lo vedi a quanto pare identico al libro perché io mi sono poi andato a leggere dopo aver visto il film la trama del libro su wikipedia e le cose che succedono sono sostanzialmente quelle però dici e cioè manca proprio appunto quel coinvolgimento della messa in scena e uno può dire vabbè però come hai detto tu vuole essere un film più introspettivo che spettacolare bada a quella parte e anche qui casca un po' l'asino perché appunto questo film dovrebbe narrare di una caduta negli inferi negli abissi del male dell'animo umano il punto è che anche se cioè se questa fosse la parte spoiler io tuttora non riesco a dirvi con precisione non riuscirai a dirvi con precisione perché Snow è diventato cattivo se uno mi chiede perché Anakin Skywalker diventa cattivo in Star Wars uno perde fiducia nell'istituzione dei Jedi due ha paura che sua moglie muoia e palpa ti dice se passi dal lato oscuro ti do il modo di salvare tua moglie ci sono queste motivazioni qui Cosno hanno sembra che abbiano voluto fare una cosa un po' a metà cioè da un lato ti vogliono mostrare una persona non cattiva che però appunto precipita nel male ma in alcuni punti sembra invece una persona che è un po' opportunista di suo e si vuole creare appunto un'ambiguità però va bene creare un'ambiguità ma devi saperla fare e io qui non vedo ambiguità io quello che vedo qui è un personaggio che in una scena in un modo in quella dopo in un altro e continua a fare avanti e indietro perché gli stessi sceneggiatori slash il regista non sanno dove farlo andare a parare non sanno come caratterizzarlo bene tra l'altro sia prima che dopo abbiamo ipotizzato vari snodi narrativi e colpi di scena possibili e so che sembra molto un ci stiamo vantando ma veramente secondo me tutte le cose che ci siamo che abbiamo ipotizzato erano più interessanti di quello che effettivamente c'è nel film ed è vero che un film andrebbe giudicato per ciò che è e non per ciò che sarebbe potuto essere il problema è che ciò che questo film appunto è una cosa molto media piatta con gli attori che ci provano anche c'è Peter Dinklage che nel ruolo del decano che ha creato Younger Games compare poco perché il poco che fa è bravo però non è che con una sceneggiatura così può tirare fuori chissà che cosa ma soprattutto c'è il personaggio interpretato da Viola Davis la dottoressa Gould se non ricordo male il nome ok il nome è Volumnia Gaul infatti mi pare che lo pronunciassero così adesso c'ho un piccolo dubbio comunque insomma c'è Viola Davis che l'ha detta giustamente ieri Luca praticamente è una variante femminile di Kang cioè l'hanno fatta iper sopra le righe cioè anche dall'immagine che avete visto c'ha questi capelli giganteschi sto Luca ma poi sempre lì così salve sono la dottoressa cattiva faccio ricerche genetiche sono più pazzo del dottor Pirani e degli Strix Sharks perché era bambino negli anni 90 ok cerchiamo di stare un po' calmini abbiamo Ben Swartz nel ruolo del primo conduttore degli Hunger Games che ricorda un po' troppo Stellitucci nella trilogia nella tetralogia originale appunto insomma sta cosa non mi ha fatto impazzire e poi c'è ci sono i due protagonisti allora Snow è interpretato da un attore che non avevo mai sentito Tom Blight lui mi piace si impegna diciamo che i problemi più grossi appunto è quando la sceneggiatura gli fa cambiare caratterizzazione da una scena all'altra però lì non è colposto tutto quello che deve fare lui lo fa bene a me lui è piaciuto sono un po' indeciso su Rachel Zegler nel ruolo di Lucy Gray ora questa attrice ha una carriera che è abbastanza sul filo del rasoio perché è partita boom sparata con il West Side Story di Steven Spielberg in quella bravissima ed è stata poi vabbè ha fatto Shazam Fuera degli Dei ma vabbè lì non lì era tutto fatto male quindi lì non puoi giudicare ed è finita al centro delle polemiche perché lei adesso farà Biancaneve nel live action e oltre al fatto che è leggermente scura di pelle e adesso va bene tutto però Biancaneve che dovrebbe essere così perché la pelle è bianca come la neve se me la fai leggermente scura di pelle uno dice ok inoltre ha fatto tutte quelle dichiarazioni contro il classico original insomma si sta attirando molte antipatie anche per certi versi esagerate nel senso che si dice un mucchio di stronzate però da qui a fare cioè c'è gente che ha fatto cose molto peggiori ha avuto molto meno gogna mediatica quindi cerchiamo anche un attimo di contenerci in questo insomma in questo e la vedremo vedremo come sarà il biancaneve e in questo ruolo qui mi convince fino a un certo punto nel senso che le fanno fare cioè le fanno avere un certo atteggiamento che ti fa dire ma se a questo atteggiamento vuol dire che a un certo punto il suo personaggio andrà in una certa direzione e poi in realtà questa cosa non succede e non è un ti ho fatto venire l'aspettativa e poi ti frego perché sei solo tu spettatore cioè lei si comporta in un modo i personaggi la trattano in un altro e poi quel modo in cui viene trattato pare confermato non lo so insomma lì non riesco a capire quanto sia un problema lei e quanto è un problema appunto il modo in cui è diretta e tutto mi sa che è un po' una commistione e tra l'altro ci sono anche un paio di personaggi di cui non ho capito il senso c'è Tigris la cugina di Snow che non serve a niente nel film e poi c'è il personaggio di Sejano Splint che sì ha un ruolo importante nel film ma che secondo me visti i dilemmi morali che solleva e tutto forse si poteva anche togliere e darlo ad altri non lo so mi pare veramente un'opera abbastanza pasticciata poi appunto leggo che è identico al libro e dico cacchio ma piuttosto che fare una roba paro paro rifletti un attimo su allora cosa funziona nel libro cosa non funziona vediamo un po' di rifarlo invece no appunto come già è successo con gli un games precedenti facciamo il compitino perché se cambi qualcosa poi i fan si triggerano e ho capito il problema è che quello che tiri fuori poi è un qualcosa appunto ripeto di senza personalità e inoltre pensateci se il film sta floppando perché la saga cinematografica col suo essere un compitino senza personalità non è che sia riuscita così tanto a imporsi appunto nella mente delle persone quindi la gente ha perso interesse cioè persino un prodotto morente come gli sia Extended Universe quantomeno qualche detrattore cioè qualche detrattore scusatemi qualche sostenitore ce l'ha perché appunto una sua personalità ce l'aveva una personalità soprattutto più che altro all'inizio poi sono diventati più schizofrenici poi insomma la parte sneideriana a me non piace però gli dici vabbè c'ha almeno provato poi che non gli sia riuscita almeno per quel che mi riguarda è un altro discorso però almeno appunto ci ha provati a dare una visione quello che poi puoi dire che sia bella o brutta quello che c'è qui invece appunto una roba scialba che non non dà al film la possibilità di risplendere di luce propria ed è proprio un film che lo vedi non è tremendo non è orribile cioè quest'anno tra Quantumania e The Flash per restare solo in tema blockbuster abbiamo visto ben di peggio però appunto qui ci sono delle belle intenzioni che mi fanno dire è un film quantomeno interessante ma poi la sostanza è ben poco e tra l'altro essendo appunto che non è un film che mira la leggerezza le due ore e quaranta di durata le senti tanto c'è sto paradosso che in alcuni punti mi sembrava allungato in altri mi sembrava cioè dicevo sta durando da un bel po' però mi sembra comunque che corra c'è sta strana c'è sta strana dissonanza cognitiva in alcuni momenti e quindi boom questo è quello che c'è da dire un film che purtroppo prosegue il trend non eccesso degli younger games appunto che sono dei compitini però questo per quel che mi riguarda è proprio il peggiore perché almeno gli altri avevano dietro una storia fatta meglio pur con i suoi problemi i suoi alti e bassi qui invece già la storia di partenza secondo me non convince perché se gli avvenimenti sono questi no e quindi appunto adattandola fedelmente ancora peggio perché non stravolgendo non cambiando nulla una roba un po' pasticciata a quanto pare il libro diventa pasticciato anche il film e io dico sempre una trasposizione non riuscita in teoria fa bene all'opera originale perché ti può spingere a recuperare quella però questa cosa vale se ti dicono guarda che la fonte originale è migliore io l'ho sempre detto non mi ha fatto cagare il film di Artemis Fall però chiunque sia fan dei libri ha detto guarda che i libri sono molto meglio non mi sono mai approcciato però ho un minimo potrei avere un minimo di interesse a leggerli un giorno qui invece è un film un po' così e c'è chi chi ha letto il libro mi dice no ma guarda che anche il libro è così allora io ho tutta sta voglia di leggere il libro non è che mi venga sinceramente e quindi nulla poi c'è la violenza che appunto non viene mostrata perché bisogna mantenere il PG-13 ci sono un paio di cose che anche concettualmente sono carine e in un paio di casi il non mostrare è anche efficace ma per la maggior parte c'è a un certo punto per dire c'è una gola tagliata vedi il personaggio che se la tiene tu sei lì oh mio dio gola tagliata morirà di sangue ci fosse una goccia di sangue come cazzo è possibile cioè la gola tagliata la gola tagliata mori di sangue in 5 secondi c'è il personaggio lì così però c'è la quantità di sangue che vedete in questo momento è la stessa che c'è nel film e io non l'ho la gola tagliata quindi capite bene ok vabbè insomma come avete capito non è un film che mi ha entusiasmato anzi ieri dopo averlo visto dicevo ma si niente di che cioè è uno di quei film che mi scende anche più sempre più mentre ci penso peccato 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 quindi finisce qui la parte senza spoiler grazie per aver seguito il video fin qui come al solito se fin qui vi è piaciuto mettete mi piace iscrivetevi condividete commentate ci vedremo a un prossimo video invece per chi il film se l'ha già visto o se ne frega degli spoiler 5 4 3 2 1 spoiler allora appunto il percorso di Lucy Gray e di Snow allora Lucy Gray parte che ha quest'aria anche un po' sprezzante o anche un po' da furbetta una che la sa più degli altri e quindi ti viene quasi da dire ma quindi tipo visto che tanto dobbiamo anche narrare la caduta nel male di Snow ti vorrebbe quasi da dire ma quindi tipo lei a un certo punto lo frega e questo lo rende stronzo lo porta a non fidarsi più di nessuno che ripeto funzionerebbe il parallelismo tra l'altro sarà un giovane amore a distruggere Capitol City più che altro tutta la cosa là del triangolo che poi si creerà con l'Hunger Games di Katniss, Pita e Gale ma prima era stato un amore finito male tra appunto Snow e questa qui a creare il futuro tirannico presidente di Capitol City ripeto come parallelismo ci poteva stare però a parte il fatto che se vuoi fare sto colpo di scena non puoi far iniziare la protagonista con questo modo di fare perché funzionasse il personaggio doveva iniziare praticamente come quello che ci viene proposto sempre dalla Zegra in questa storia appunto quindi bella carina tenera dolce che non farebbe mai male una mosca e poi scopri no era tutto un piano per ingannare per farsi piacere dalle persone quindi in particolare da Snow il suo mentor e può incularlo e tra l'altro come ha detto giustamente ieri Matioski nel momento in cui viene beccato il fatto che Snow ha aiutato lei a vincere mettendo il suo fazzoletto nella cosa del recipiente con i serpenti per impedire che la uccidessero e che viene fuori che lui le ha dato il veleno la polvere avvelenata per aiutarla lì veniva da pensare ma l'hanno trovato loro perché smaliziati o effettivamente è stata lei a inculare Snow sarebbe stato interessante pensate ah si è stata lei a dirci che avevi barato per avere fortuna e gloria eccetera insomma per pararsi le chiappe poteva non essere una brutta idea tra l'altro un percorso ideale poteva essere Snow che parte che è a favore degli Hunger Games quando vede la ragazza di cui è innamorato rischiare la vita inizia a odiarli poi quando quella lo incula torna ad apprezzarli più di prima e appunto diventa il grande fautore degli Hunger Games però questo percorso non c'è cioè lei alla fine era effettivamente buona la vedi che è tornata al distretto 12 ha ripreso la sua vita sembra voler avere una narrazione con Snow però Snow poi per egoismo la lascia andare cioè c'è questo momento finale cioè il finale con Snow che prova a spararle lei lo fa mordere da un serpente perché si rende conto che Snow in realtà è responsabile della morte del suo amico di Plint ma non gliel'ha detto ok ma non lo so cioè mi piace il fatto che lui provi a spararle a parte che poi non si sa che fine abbia fatto io avevo fatto proprio che la uccideva e questo segnava la sua definitiva caduta agli inferi però poi non mi sembra un percorso adatto cioè lei parte che si vede che appunto sprezzate dice anche delle cose che sembrano uscite da quello che dice Rachel Zegler sui social cominciano Snow poi però sembra dolce con Snow innamorato eccetera e poi alla fine lei vittima cioè non lo so non mi sembra un percorso cioè non riesco neanche a descrivere perché è talmente sconclusionato che io stesso non riesco a parlare di sto percorso in maniera delineata poi appunto la cosa lì di Plint che è contraria a Younger Games perché uno del distretto 2 che però si è talmente cioè il padre era del distretto 2 ma si è talmente arricchito che è riuscito ad entrare a Capital City e quindi l'ha salvato da Younger Games e lui comunque è contrario perché lui c'è stato lì in mezzo e dice no siete degli stronzi siete dei bastardi che ci può anche stare però e poi alla fine appunto Snow sacrifica lui per salvare se stesso ed è per questo poi che viene riammessa a Capital City ma allora togli il personaggio di Plint e fai che sacrifica direttamente lui si rinuncia all'amore per l'ambizione a questo punto mentre invece no parte con lei però no poi si no cioè è troppo confuso come appare nel film poi vabbè sorvoliamo sul fatto che come è possibile che nella gabbia dove sono ottenuti i tributi non ci sia la sera una telecamera una guada di sorveglianza niente se non le può dare la cosa col veleno e nessuno se ne accorge capisco lei che sfrutta i punti ciechi nell'arena in cui c'è proprio il conduttore c'è Flickerman che dice ah non ci sono telecamere in quei punti l'anno prossimo ci saranno perché infatti se non sbaglio anche nei libri veniva detto che man mano che gli Hunger Games sono andati avanti le arene sono uno diventate sempre più complesse e due hanno aggiunto sempre più telecamere per non perdersi neanche un secondo cioè neanche un piccolo per non perdersi nulla di quello che succede e quindi lì ci può stare ma che la gabbia non sia sorvegliata è veramente un'idiozia poi tra l'altro il fatto che Snow suggerisca di usare del veleno a lei già durante i Younger Games secondo me depotenzia il momento in cui alla fine uccide il decano Peter Dinklage perché cavolo lì l'idea che Snow cioè immaginatevi fa finire il film col primo omicidio di Snow tramite veleno ma comunque abbiamo già visto che ok non l'ha usato lui il veleno però è una cosa che già gli veniva in mente non lo so non mi sembra una cosa molto che abbia molto senso cioè comunque proprio a livello di costruzione del percorso emotivo poi anche il colpo di scena che a quanto pare è stato il padre di Snow ad avere l'idea per Younger Games o meglio il decano ha avuto l'idea poi Snow gliel'ha rubata e l'ha poi presentata e quindi da allora il decano ha sempre vissuto con il rimorso cosa che ci cia fuori completamente a caso e secondo me non avrebbe avuto più senso se avessi detto eh quando ho progettato Younger Games ero orgoglioso alla quinta o sesta edizione mi sono accorto di che merda fossero però ormai non potevo più tirarmi indietro secondo me sarebbe stato più più interessante poi Peter Dinklage bravissimo quando deve simulare che muore c'ha un'espressività che vabbè è Peter Dinklage è ok poi appunto il personaggio di Viola Davis sta dottoressa pazza carino quando appunto c'è la compagna di Banco di Snow che si arroga i meriti del compito però lei ha intuito che la compagna sta mentendo e quindi dice dai metti la mano in mezzo ai serpenti e prendi il foglio se il foglio l'hai scritto tu siccome loro hanno sentito l'odore della tua mano non ti morderanno ovviamente lei non non è stata lei quindi la mordono tra l'altro non si sa che fine faccia meglio per scontato che o è morta o ha delle o è tipo invalida una roba del genere perché appunto il veleno l'ha completamente fottuta ma lì ci sta che non sai che fine ha fatto è proprio bella l'ambiguità in quel caso avrei preferito invece che si chiarisse il destino di Lucy Gray uccidila subito e via non che magari probabilmente volevano farla tornare in eventuali seguiti vabbè poi appunto tutta la parte nei younger games cioè non è che sia carino ad esempio il fatto che ci sia il ragazzo del distretto 12 che è stato morso da un pipistrello sul treno gli viene la rabbia prova a uccidere Lucy e Snow la salva dicendo alla mentore guarda che il tuo tributo ormai è finito dagli dell'acqua perché la siccome la rabbia avrà paura dell'acqua ed è bello che cade il drone e il drone lo colpisce lui cade all'indietro e muore in questo modo che non è molto spettacolarizzato ma lì il fatto che sia un momento asciutto ci sta invece appunto la mentore che viene infilzata con una bottiglia dal suo tributo mentre questo ingabbia alla tributo tra l'altro perché è una lei le sparano quella muore e c'è appunto solo che dice no 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 sta morendo no si sta diseguando si sta diseguando non c'è sangue porca troia le hanno reciso la carotide muore di sanguato vabbè quella è proprio una strunzata poi appunto anche l'arena non è molto ecco una cosa c'è questo attentato dei ribelli questa esplosione che distrugge l'arena mentre ci sono dentro tutti i tributi e i mentori non rimane ferito si vede un tributo con un occhio andato un altro che ha perso un braccio e basta tutti gli altri sono perfetti ok che ci è stato mostrato in Hunger Games che a Capitol City ci sono delle cure incredibili che ti puliscono da ogni ferita però comunque dillo se nel riavvio della saga cioè se fai vedere un'esplosione un giorno e il giorno dopo i Young Games sono iniziati e sono a parte appunto un mutilato e una con un occhio pigro sono tutti belli limpidi non rende molto a livello scenico poi appunto come dicevo prima il personaggio della cugina di Snow Tigris non serve a niente se non a citare un personaggio che è apparso nella saga tra l'altro le età non coincidono ma vabbè appunto carina l'idea che Snow sia a rampollo di una famiglia ricca poi sta finendo in povertà e poi si deve rialzare però anche lì un conte se appunto avesse rinunciato a Lucy per riabilitare la famiglia questo lo avesse reso più stronzo però appunto per quello che viene mostrato nel film l'ho già letto tre volte lo ripeto la quarta non si capisce niente poi a un certo punto mentre lui nel distretto 12 arriva una che fa ah c'è quest'erba e c'è la Lucy Gray che dice Katniss suona meglio perché Katniss assomiglia a Katnip cioè erba gatta un gioco di parole che in italiano è intraducibile però è veramente una reference abbastanza brutta per quel che mi riguarda secondo me avrebbe avuto molto più senso se quando fanno il rastrellamento per cercare le armi se volevi citare i personaggi un pacificatore avesse detto in casa degli Everdeen non c'era niente tu fai ah gli antenati di Katniss e un altro anche nella panetteria dei Melak non c'è niente ah gli antenati di Pita sarebbe stato anche perfettamente integrato e dici guarda hanno fatto i nomi dei futuri personaggi questo sarebbe stato molto meglio di un Katniss ho detto Katniss eh 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 figo Katniss eh 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 no ho detto messo in scena così no e mi sto rendendo conto che non ho molto altro da dire cioè veramente un film vuoto in quest'ottica e quindi chiudo qui il video se avete voi delle considerazioni da aggiungere fatemene sapere ma veramente cioè l'ho visto ieri me lo sto dimenticando cioè ho detto che The Marvel è un film della media dimenticabile ma The Marvel me lo ricordo molto di più di questo sinceramente e ripeto a livello di ambizioni questo sarebbe dovuto essere molto meglio di The Marvel se ho visto che per alcuni lo è fa piacere per voi ma secondo me nella sua leggerezza The Marvel si intrattiene di più di questo mattone mh piuttosto fine a se stesso e che appunto non sfrutta tutti gli ottimi spunti che può avere ah poi c'è il continuo gioco eh gli snow cadono gli snow si posano in cima perché snow vuol dire neve quindi la neve cade la neve no in realtà la neve sta in cima sui tetti ah 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 che bel gioco di parole andiamo avanti va anzi in realtà finiamo perché il video finisce qui grazie per averlo seguito come al solito se vi è piaciuto mettete mi piace iscrivetevi condividete commentate e ci vedremo a un prossimo video ciao ciao ragazzi ciao